Dov'è il centro di questa città? Piazza in alto Breo in basso Per andare su e giù c'è un bel po' da camminare C'è anche una scala se vuoi accorciare Ma bisogna comunque sempre faticare Idea! Perché non costruire una furicolare? Dunque bisogna progettare Piante, prospetti, pezzi da combinare Vediamo se riesce a funzionare Ci sono due cabine che vanno su rotaia Con una lunga fune e sotto un serbatoio E per mettere dell'acqua che fa da contrappeso Un sistema perfetto Davvero geniale! Una cabina scelte mentre l'altra sale A metà ci incontriamo e ci postiamo a salutare In alcuni casi anche innamorare In alcuni casi innamorare Incaitare 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 Grazie a tutti